Bentornati! Allora oggi ho un compito abbastanza arduo perché mi sono imposto di spiegare con parole semplici e per quanto possibile comprensibili un concetto abbastanza complesso che è quello del temperamento. Se voi andaste a cercare la voce temperamento metti su wikipedia è probabile che leggereste tre righe e poi vi fermereste perché vi siete già persi. Allora scopo di questo video è fare in modo che voi capiate due o tre concetti fondamentali e poi magari possiate approfondire anche per vostro conto anche perché evidentemente per rendere semplice un concetto abbastanza complesso dovrò come dire prendere qualche scorciatoia e semplificare qualcosa ma ripeto lo scopo del video è dare darvi un'infarinatura di cosa sia il temperamento. Allora tutti sicuramente avete sentito parlare del famoso clavicembalo ben temperato di Bach. Se però come pensavo io da bambino ancora oggi vi immaginate il nostro caro amico Bach che sta con un temperamattite temperando il suo clavicembalo forse avete bisogno di vedere questo video. Allora prima di tutto prima di spiegare cosa è il temperamento dobbiamo capire bene il concetto di ottava che non c'entra niente con l'ottavo. Allora l'ottava è lo spazio che intercorre tra una nota e la nota successiva con lo stesso nome. Banalmente se andassero sul pianoforte partiamo diciamo dal do avremo do re mi fa so la si do per cui lo spazio che c'è tra un do e il do successivo è l'ottava. Allora vi sono diversi tipi di temperamento ora vi spiego di cosa si tratta ma tutti concordano sul fatto che l'ottava è questa qua e su questo non si discute. Se avete visto il video sull'A a 440 cosa vuol dire 440 Hz? Che quell'A ha 440 oscillazioni in un secondo. Per la stessa ragione il l'A all'ottava alta avrà il doppio delle oscillazioni quindi invece che 440 ne avrà 880 e il l'A un'ottava più basso avrà metà delle oscillazioni al secondo. Quindi 440 diviso 2 220 oscillazioni al secondo. Quindi su questo concetto di ottava tutti i tipi di temperamento concordano. Ma quindi che cos'è questo benetto temperamento? Diciamo che potremmo definirlo come la maniera in cui si divide lo spazio all'interno di questo intervallo di ottava. Specifichiamo che in tutto quello che dirò noi ci stiamo riferendo esclusivamente al sistema occidentale perché altri sistemi soprattutto in Oriente hanno dei temperamenti e quindi delle notte completamente diverse. Alcune per noi non esistono neanche. Allora in genere quando si cerca di spiegare il temperamento si parte dall'antichità quindi da Pitagora in particolare poi dal temperamento mesotonico e insomma da quello che si faceva nel Medioevo e si arriva ai giorni nostri. Io invece voglio fare un procedimento esattamente inverso. Vi voglio spiegare qual è la situazione oggi per poi tornare indietro e capire dove è nato il problema e quali sono le questioni principali che ci interessano. Allora noi oggi utilizziamo il cosiddetto temperamento equabile. Cosa significa? Che da un'ottava all'altra ci sono 12 suoni. Cioè vedete Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis eccetera. Per un totale di 12 suoni. Temperamento equabile che cosa significa? Che abbiamo deciso di dividere l'ottava in 12 intervalli identici. Quindi che cosa vuol dire? Che lo spazio, la distanza che c'è tra una nota, diciamo il Do, e la sua nota immediatamente successiva quindi il Do diesis, è identico allo spazio che ci sarà tra il Do diesis e la sua nota immediatamente successiva cioè il Re, che è identico allo spazio che ci sarà tra il Re e la sua nota immediatamente successiva il Re diesis o Mi bemolle e così via. Per cui l'ottava è divisa in 12 intervalli identici. Se avete bisogno di un paragone, immaginatevi l'ottava come un parcheggio. In un parcheggio dove ci sono 12 posti auto identici e nel quale vengono parcheggiate 12 automobili identiche. Ricordate questo paragone del parcheggio perché lo userò ancora più avanti per spiegarvi un altro passaggio. Allora oggi, come detto, si divide l'ottava, il nostro parcheggio, in 12 intervalli, quindi in 12 posti assolutamente identici. E tutte le 12 macchine che parcheggeremo in questo parcheggio sono uguali. Ma non è sempre stato così. In passato si accordava, non in questa maniera, si utilizzavano altri metodi, il più noto di quali era quello che derivava dal cosiddetto ciclo delle quinte. Ora non sto a spiegarvi cos'è il ciclo delle quinte perché non vorrei riempirvi la testa con troppi concetti. Però diciamo così. Per noi oggi la distanza che c'è di quinta, cioè di 5 note dal Do al Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, sono 5 note quindi l'intervallo di quinta, corrisponde a un determinato intervallo. Ecco, nel sistema pitagorico questo stesso intervallo dal Do al Sol era leggermente diverso, era un pochettino più acuto per essere più precisi. E capiamoci, stiamo parlando di differenze molto molto piccole. Quindi come si calcolava la scala? Si partiva da una nota, mettiamo dal Do, e poi si cercava la sua quinta. Una volta che si era trovata la quinta, si trovava la quinta di quella quinta, quindi dal Sol si andava Sol, La, Si, Do, Re si andava Re. Una volta che abbiamo trovato il Re, cercavamo la quinta del Re, quindi Re, Mi, Fa, Sol, La. Una volta ho trovato il La, si cercava la quinta, La, Si, Do, Re, Mi e così via, finché non si era trovata tutta la scala musicale. Però per una serie di questioni che non sto a spiegarvi perché potrebbero confondervi le idee, vi basti sapere che questo sistema di calcolare le note, quindi trovare la scala musicale, comportava che, essendo gli intervalli un pochettino più grandi di quelli che oggi percepiamo, a lungo andare queste note, come dire, si ingrossavano. E un po', immaginate, come se nel parcheggio dove prima ci stavano 12 auto assolutamente identiche, togliessimo uno di queste auto e ci mettessimo un SUV. Alla fin fine, se mettessimo un SUV e le altre 11 macchine fossero le stesse di prima, il problema non sarebbe praticamente rilevante. Il problema si pone quando il numero di SUV aumenta, per cui cosa succede? Che il parcheggio è sempre quello e non possiamo modificarlo, è il parcheggio, è la nostra ottava. Però le note sono sempre più grossi, immaginatevi un SUV che occupa il posto di una berlina, ad esempio nel parcheggio. A furia di avere dei SUV, che quindi occupano più posto della macchina precedente, cosa succede? Che a un certo punto non ci sarà spazio per 12 macchine. Ma noi 12 macchine nemmeno facci stare perché abbiamo 12 macchine da parcheggiare. E allora cosa si faceva? Alcune note venivano ridimensionate, rimpicciolite. E quindi, sempre per stare sul paragone del parcheggio, immaginatevi che in questo parcheggio ci fossero un certo numero di SUV e un certo numero di smart, che sono state messe proprio perché essendo più piccole occupano meno spazio e quindi alla fin fine riusciamo a mettere 12 automobili, qualcuna più grossa, qualcuna più piccola, all'interno del nostro parcheggio. Allora, questo sistema di avere delle note che non sono tutte uguali, quindi qualcuna è un po' più grande, qualcuna è un po' più piccola, anche se ripeto stiamo parlando di differenze molto molto piccole, questo sistema, dicevo, andava benissimo fino a che la musica che si eseguiva era monodica, cioè era fatta da una voce per volta. Avete sicuramente presente un qualunque canto gregoriano, in cui ci sono sì, voi sentite più voci, ma in realtà suonano la stessa melodia, una sola melodia, non ci sono altre voci che cantino altre melodie. Allora, finché la musica era monodica, tipicamente appunto nel gregoriano, fino al gregoriano almeno, il problema non si poneva, perché la voce si adattava in automatico, per cui che quell'intervallo di quinta, quindi dal do al sol, fosse quello che percepiamo noi, o che fosse, come era probabilmente ai tempi, leggermente superiore, alla fin fine le voci tra di loro automaticamente si, diciamo così, si accordavano. Quando si è posto il problema? Quando si è passati dalla monodia alla polifonia, quindi quando sono giunte altre voci che cantavano insieme, e ancora di più quando alle voci sono giunti degli strumenti, e in particolare degli strumenti e tastiera. Perché gli strumenti e tastiera, una volta che sono accordati, e mentre lo stai suonando, quella nota rischia di non essere perfettamente intonata, allora non è che puoi accordarla mentre stai suonando, devi accordarla prima. Ecco perché ci si è posti il problema di un'accordatura, di un temperamento, per essere più precisi, che potesse uniformare sia le voci che gli strumenti. In tutto ciò tenete presente che nella musica antica non si utilizzavano tutte e dodici le note che si utilizzano oggi, anzi, si utilizzavano molte meno, e lo stesso concetto di tonalità era un concetto che non aveva molto senso, si usava la modalità, che era un principio diverso. Vi basti sapere che c'era un numero definito di modi, ognuno dei quali veniva percepito con determinate caratteristiche. Ecco quindi dicevo che a un certo punto si è posta la necessità di accordare nella stessa maniera sia le voci tra di loro che le voci con gli strumenti. ecco perché poi col tempo si è utilizzato il cosiddetto temperamento equabile. Anche perché in altri temperamenti, come il mesotonico ad esempio, alcune note, come questa nota del pianoforte, che è un re diesis, ma è anche un mi bemolle, chi studia musica lo sa, re diesis e mi bemolle, corrispondono esattamente allo stesso tasto, ma tecnicamente non sarebbero la stessa nota. Avrebbero una piccola differenza, ripeto, minima, ma che c'è. Poi per convenzione, e ormai anche per abitudine al nostro orecchio, noi tendiamo a dire che re diesis e mi bemolle sono la stessa nota, ma in realtà c'erano alcuni strumenti, alcuni clebicembali, che avevano due tasti, uno per il re diesis e uno per il mi bemolle, e così come ce n'era uno per il sol diesis e uno per il la bemolle, che però sul nostro pianoforte sono la stessa nota. Per, come dire, tagliare la testa al toro e deciderci sul fatto quanto fosse esattamente una quinta, sul decidere se il re diesis o il mi bemolle fossero la stessa nota o no, e così via, si è scelto di dividere l'ottava in 12 intervalli assolutamente identici. Ed ecco quindi che il clebicembalo ben temperato di Bach, è servito, come dire, a dare pari dignità a tutte le note. Perché in realtà a tutte le note e a tutte le tonalità, tant'è vero che il clebicembalo ben temperato sono preludi e fughe in tutte le tonalità possibili. Perché dare pari dignità alle tonalità? Perché in passato non era così. Nel tempo in cui si usava la modalità, in realtà ogni modo aveva un suo modo di risuonare e anche delle sue caratteristiche proprio di espressione. Invece con Bach tutte le tonalità hanno pari dignità e pari funzione. Ed ecco perché il clebicembalo è ben temperato. Bene, spero che questo video vi abbia un po' chiarito qualche dubbio su che cosa sia il temperamento, ma soprattutto spero che vi serva da stimolo. Una volta che avete capito che cos'è il temperamento e che il concetto di ottava è l'unica cosa fissa per natura, mentre la distanza fra le altre note è variata nel corso di secoli, solo oggi per convenzione viene considerata tutto uguale, una volta che avete capito questo concetto spero che vogliate approfondire l'argomento. Io ringrazio Massimiliano per la realizzazione di questo video, vi invito a iscrivervi se non l'avete già fatto e vi siete iscritti al canale, se avete piacere potete anche abbonarvi per avere una serie di vantaggi esclusivi e di contenuti extra e noi ci vediamo al prossimo video. Naturalmente scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se vi è tutto chiaro, se avete dei dubbi scriveteli e farò il possibile per rispondere a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Non mancate!